Allora, io ora gli devo togliere questo pezzo di cuore che gli ho tirato fuori. È una bella pinza nuova, nuova, nuova. Sì, lo so, veloce, veloce. Che sta per morire il nostro paziente, veloce. Tu curalo! Non c'è a cucire? Sì, 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 inizia, inizia. No, che attenzione che serve per questo piccolo pezzo, poverino. No, guarda qua, tutto il pezzo di sangue che sta uscendo. Povero sangue. Allora, fammi pensare. Tegniamo la lente e il sangue mi ha. Cianco. Ok, un pezzo di cuore, l'ho preso con l'ordetto. Ora andiamo a mettere il nuovo. Andiamo a mettere il nuovo. Vai, le ho stupati un attimo. Le ho stupati un attimo. Corro più filo. Ah, cavolo, c'è un problema. Allora, andiamo a buttare questo pezzo. Questa è questo? Lascio, lascio. Taglialo con le forbici. Va, vedi play. Allora, andiamo a buttare questo pezzo di cuore. Pissi. Ne prendi un altro. Ok, andiamo glielo a rimettere. Ehi, chirurgo, metti questo prima di cucire. Vai, infilza. Infilza, vai, vai, vai. Con le tue mani, le super pulite. Le rilascio qua se ti serve. Vai. Ora ci siamo. Ce l'abbiamo fatta, chirurgo. Anzi, ce la stai facendo. Ok, l'abbiamo salvato, signori. Non c'è più pericolo che possa morire. Ok. Ciao.